Io sostengo l'iniziativa fin dal suo nascere perché è un'iniziativa che parte dai cittadini e che propone un modo diverso di rilanciare le politiche europee in un'ottica di crescita ma in un'ottica di crescita sostenibile che veda anche in un nuovo modello di sviluppo il futuro del nostro continente che gli dia più forza anche rispetto a tutto quello che vediamo all'esterno.